grazie care amiche ed amici da tempo volevo fare questo video e vi ringrazio per seguirmi in realtà dovevo fare già due video e ne faccio due in uno perché già da tempo abbiamo superato le mille iscrizioni quindi vi ringrazio a tutte e tutti voi per aver superato le mille iscrizioni e poi vi voglio ringraziare per aver superato il mezzo milione di riproduzioni del canale infatti siamo oggi che mercoledì 24 di gennaio 2018 a mezzo milione 696 riproduzioni quindi grazie a tutte e voi per avermi fatto superare il mezzo milione di visualizzazioni grazie a tutti i miei amici amici per aver raggiunto le 1000 abitudini e le mille milioni di views of the channels of the channel of my youtube santan channel bene come dire farò un altro video il 7 febbraio perché io mi sono unito a youtube il 7 febbraio 2013 quindi questo significa che quest'anno il 7 febbraio che viene entro pochi giorni saranno cinque anni che io sto su questa piattaforma di video youtube e quindi c'è molto da celebrare siamo arrivati anzi abbiamo superato insieme la quota di mezzo milione di visualizzazioni vi ho proposto molti video adesso cerchiamo un po non mi ricordo manco io quanti video ho fatto scusate questo che io non edito pubblico così 767 video che a volte non è che trasmettevo più di uno la settimana a volte uno al mese a volte tre in una settimana e quindi un promedio di due la settimana però insomma se uno guarda sì è come se ne avessi fatti è come se ne avessi fatti due la settimana perché mi da 560 io invece allora 80 sereste domanda vista rete domandando che sto facendo ecco come si è fatto 2,73 video a settimana quindi quasi tre video a settimana perché ci sono state delle settimane che non facevo video delle settimane che ricaricare oltre quindi così grosso modo come se facessi tre video a settimana ne avrei voluti fare di più purtroppo ci sono stati dei momenti nei quali non non ne ho potuti fare e adesso mi scade il tempo dei cinque minuti che mi propongo per fare di farli ad alta risoluzione video allora vi ringrazio a tutte e tutti per aver superato avermi fatto superare il mezzo milione di visualizzazioni e di essere più di mille iscritti non vedo l'ora che youtube mi reattivi live streaming così potrò fare dei video più larghi perché non mi va di perdere tempo editandoli salutandovi il vostro sentenciana grazie per avermi supportato fino adesso e video che vi piacciono mi raccomando condivideteli